Dice la leggenda che la dama rossa tornò a rivivere seminando il terrore, uccise sei persone innocenti, la settima fu la dama nera, la settima. Aiuto! Perché hai tanta paura della polizia? Ci sono già stati cinque omicidi e la maledizione vuole che sia io la settima vittima. Tu sei proprio convinto che sia stata mia sorella? E avete visto una donna fuggire? No! Indossavo una cappa rossa, l'ho vista bene. Lei, signorina, riconosce quel viso? Ho scoperto come è stata uccisa Evelyn e D'Akik. Che cosa vuoi da me? Evelyn mi porterà un coltello per ammazzarti. Io ti odio e ti ucciderò, Marty. I morti non ritornano. Conosco dei giochi strani, mi hai sentito parlare. Lo sanno anche quelli della polizia che sono una meravigliosa linfomani. Come vedi, sono riuscita a farti effetto. Tu non puoi farti complice di così atroci delitti. Tu devi parlare. Lei potrebbe essere la prossima vittima della donna della cappa rossa. Credo di aver scoperto chi è la donna rossa. Aiuto! 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 Aprite! No, no, no No, no, no